Il nostro Cern italiano, così la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, ieri ha definito il progetto Einstein Telescope a Sosenatos nel corso del suo intervento al Forum di Cernobbio, in cui da quasi 50 anni i politici, economisti e premi Nobel discutono sui grandi temi economici. Il governo italiano continua a crederci e a promuovere l'importanza dell'opportunità Einstein Telescope non solo per la Barbagia e la Sardegna, ma per tutta Italia, dal momento che renderebbe il paese il fulcro di una nuova dimensione della comunità scientifica internazionale. Nel suo discorso Bernini ha parlato di obiettivo sfidante ma realizzabile, per quella che sarà un'infrastruttura strategica europea e che in questa fase per l'implementazione sta già coinvolgendo in Italia l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto di Geofisica e di Vulcanologia, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Il sito di Sosenato, Salula, è dallo scorso 6 giugno il candidato italiano ufficiale per ospitare l'osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione più potente mai costruito. Una conferma che arrivò dal governo dopo mesi di endorsement, che hanno visto anche la ministra Bernini in visita all'ex sito minerario lo scorso 20 marzo. Un'infrastruttura al cui costo complessivo per la realizzazione, in un periodo stimato tra 6 e 9 anni, sarà di 1,9 miliardi di euro, che necessiterà di 1.400 professionisti provenienti da 23 paesi e da oltre 200 istituti di ricerca, con ricadute economiche enormi, dal momento che uno studio dell'Università di Sassari stima che ogni euro investito nel progetto Einstein Telescope ne genererà 3,2. L'avversario europeo del sito di Sosenato è la regione dell'Imburgo, al confine tra Belgio, Germania e Paesi Bassi, area al momento meglio servita dalle infrastrutture, ma che Sosenato sbatte per l'appresso che assenza di rumore sismico.